ciao oggi data primo agosto 2023 confermi e siamo per partire per il nostro pellegrinaggio questa è la vista nel mentre mi ha spuntato un brucolo stanotte mi fa un male devastante sta piovendo stava piovendo adesso con ci vedremo vedremo come proseguirà il nostro viaggio facciamo una clip un po dimostrativa dell'uomo dove siamo questo sarà questo sarà il mio bagaglio a mano questo è il cielo non molto promettente bene questa nostra la nostra la nostra magione che abbandoneremo questa notte per tornare la notte prossima puoi esprimere un parere effettivamente e ci proviamo dopo stiamo andando a tappo facciamo vedere i nostri acquisti siamo riusciti a fare al tabacchino della stazione ora siamo questa città dal nome bene questi sono i nostri affitti ma poi diciamo abbastanza ammettati perché felpa blu pantaloni neri scarpe nere bianche vabbè bene ragazzi il treno è cortissimo è tipo due carrozze già è lisa che sta facendo il suo setup adesso devo cucirle la camicia salve buon ore bignati bignati con la b a brescia per la prima volta stiamo cercando un ciasso vediamo se prendere il milano o prendere il pioltello io punto sul pioltello perché ci mette meno ma non sappiamo dove si aprire il tello vabbè di cazzo 19 euro di biglietto non ci siamo il treno regionale di treno delle ore 10 e 3 o 7 proveniente da parma è in arrivo al binario 16 binario 16 ecco qua il treno che ci poteva a pioltello a pioltello limite città sconosciuta bene secondo treno seconda corsa per adesso ok buongiorno a tutti siamo nella famigerata stazione di pioltello limite e niente ora abbiamo 20 minuti di cambio però non possiamo andare al mac per bene la festa purtroppo stiamo mangiando i biscotti ultimo treno ultimo treno ultimo treno ultima corsa e abbiamo fame tu hai fame io voglio andare a casa a dormire guarda non vedo dove tanto zumalaisi tutti e buono e qui ha fatto la festa